La Roma comunque cresce alla grande? Cresce, cresce. Un altro anno questo. Un altro anno con Luis Enrique il feeling è perfetto in questo momento. Non è sempre stato perfetto, soltanto non venivano i risultati. Ti bastava solo aspettare? Sì. Unica cosa su Daniele, come l'hai visto ieri? Grande il feeling con il pubblico. Ma lui è tipo se da Roma e da quanto so può restare. Decide lui.